La falsa bandiera, o per usare un inglicismo, la false flag, è ormai diventata prassi parlarne anche a sproposito, soprattutto nell'ambito complottista. Quante volte abbiamo sentito parlare da parte di presunti esperti e ancora più presunti opinionisti di presunte operazioni false flag per giustificare atti di terrorismo, piuttosto che scontri non ortodossi fra nazioni o fra fazioni politiche. Chiaro, non è sempre e tutto una montatura. Delle ragioni di fondo ci sono, delle operazioni false flag sono esistite e se oggi siamo così condizionati o suggestionati da questo termine, dalla falsa bandiera, è forse dovuto a una tradizione, una tradizione che affonda le proprie radici nella pirateria. La pirateria è quella sui mari, quando i corsari issavano una falsa bandiera, da qui il termine, per raggirare i galeoni commerciali, far loro intendere di trovarsi davanti non a una nave pirata, ma a una nave regolarmente in servizio e quindi abbassare le proprie difese e essere meglio disposte per un eventuale abbondaggio. Ecco, la false flag è nata lì, è nata sugli oceani, è nata nel mar dei Caraibi, è nata quando la pirateria era sostanzialmente solo una pratica marinara da parte di pochi avventurieri. Ma nel mondo moderno? Nel mondo moderno la false flag è diventata qualcosa che è andata ben oltre la tradizione dei mari. Anzi, se sui mari gli ultimi esempi di false flag possono essere le navi corsare, i cosiddetti incrociatori ausiliari, i mercantili armati e dotati di una tecnologia tale da camuffarsi e passare per innocue navi commerciali per poi abbordare e distruggere le vere navi commerciali, ebbene la false flag è diventata una pratica utilizzata da tanti servizi segreti, di più delle volte per provocare, per ottenere una reazione a un primo atto appunto di provocazione. Ad ogni azione corrisponde una reazione opposta e contraria, lo sappiamo bene. In alcuni casi la false flag è anche l'infiltrazione sotto falsa bandiera, reclutare degli agenti facendo loro credere di lavorare per un determinato paese quando in realtà lavorano per tutt'altro padrone, magari un padrone che non avrebbero mai voluto servire. C'è anche questo. Oppure la false flag può servire a scatenare una guerra vera e propria. Forse il primo esempio di una operazione false flag è uno degli incidenti di Mukden del 1931, che offrirono al Giappone imperiale l'occasione per intervenire in Manciuria e creare in breve tempo quello che divenne noto come lo stato fantoccio del Manciuquo. Ma c'è un'altra operazione false flag che forse merita ancora più attenzione da parte della pubblicistica, perché se per molti europei l'invasione della Manciuria e poi la guerra in Cina sono eventi distanti, per quanto siano stati molto tragici, pensiamo al terribile massacro di Nanchino, oppure all'assalto di Shanghai con relativo bombardamento, o ai tanti bagni di sangue che si sono visti dal 1937 in avanti nel subcontinente. Ebbene, per gli europei c'è un'operazione false flag che è diventata ben più pregna di significato. Questa è avvenuta la sera, la sera di fine agosto del 1939, dove? A Glaivitz, una piccola cittadina che all'epoca era posta a pochi chilometri dal confine tra la Germania nazista e la Polonia. Ricordate la nostra data, una data fondamentale, una data che segnerà uno spartiacque, il 31 agosto 1939, e il luogo Glaivitz. Facciamo un passo indietro. Andiamo a qualche mese prima. Arriviamo alla primavera del 1939. Cosa è accaduto in Europa in quel periodo? Beh, l'anno prima Adolf Hitler si è annesso con l'Anschluss l'Austria, la sua terra natia. Era un qualcosa che teorizzava da tempo, che non gli era riuscito in precedenza con il sanguinoso Pucce che era costato la vita al cancelliere Dolphus, perché nel caso Mussolini si era intromesso e aveva dato protezione sia alla famiglia Dolphus che proprio a tutta la fragile Repubblica Austriaca. Dopo che Mussolini aveva deciso di rivedere le proprie posizioni anche a causa della guerra in Etiopia e delle sanzioni che avevano allontanato l'Italia dal consenso internazionale, spingendola idealmente tra le braccia di quello che diventerà l'asse Roma-Berlino, a quel punto Hitler aveva avuto mano libera per l'Austria. Ma non si era accontentato. Aveva puntato un nuovo obiettivo, i Sudeti, quella striscia di terra che contorna l'attuale confine occidentale della Repubblica Ceca e che all'epoca rappresentava sempre il contorno confinario, piuttosto spesso, dell'allora Cecoslovacchia. Una terra abitata da una forte minoranza tedesca che, abilmente sobillata, aveva chiesto di riunificarsi a quello che stava diventando il nuovo Reich tedesco. Con una politica mista tra blandizie, minacce, pressioni e un po' di robusta diplomazia, Hitler aveva ottenuto il suo scopo. Aveva ottenuto i Sudeti, a Monaco, nella conferenza internazionale dell'autunno del 1938. Lì Hitler aveva fatto intendere ai suoi dirimpettari, non solo il presidente cecoslovacco Benesch, ma soprattutto i francesi e Neville Chamberlain, che guidava il gabinetto britannico, che la sua sete, o meglio, la sua fame di territori, si era placata lì, con i Sudeti. Non era vero. Lo abbiamo visto mesi dopo. E arriviamo appunto alla primavera del 1939. La primavera del 1939 che vede la Cecoslovacchia a sgretolarsi. La nascita del cosiddetto protettorato di Bohemia e Moravia, che altro non è che un accorgimento burocratico per normativizzare l'occupazione di Bohemia e Moravia. E il distacco della Slovacchia affidata a Josef Tigio, un prete cattolico di simpatie naziste. E poi? E poi Hitler aveva chiesto Kleipeda, l'attuale Kleipeda, all'epoca Memel, porto lituano, sul Mar Baltico. Anche questo con la solita scusante. Ci vivono dei tedeschi. Quindi Hitler, che è diventato una sorta di paladino della causa pangermanica, vuole anche Memel o Kleipeda. Chiamatela come volete. E l'aveva ottenuta. Quindi finisce qui. No. Non finisce qui perché in contemporanea, quasi con l'ultima conquista, in dolore, senza spargimento di sangue, era arrivato un patto, un patto di tutela, voluto dai francesi, appoggiato dagli inglesi, a favore della Polonia. Quella Polonia che, secondo tanti analisti, rappresentava il prossimo obiettivo di Hitler. Ed era semplice capire il perché. Bastava osservare la carta geografica. C'era quella sottile striscia di terra, il cosiddetto corridoio di Danzica, che incolosiva Hitler, tenendo presente però che rappresentava anche l'unico sbocco della Polonia sul mare. Il corridoio di Danzica separava la Prussia orientale, territorio tedesco, dal resto del Reich. Ed era questo il motivo del contendere. Hitler voleva il corridoio di Danzica. Anzi, voleva anche qualcosa di più. Inizialmente si era parlato di istituire dei sorti di corridorzüge, cioè dei treni del corridoio, che garantissero un collegamento diretto tra la Prussia orientale, Helbing, Königsberg e tutte le altre città della zona, con la madre patria. Ma Hitler non bastava. Voleva la possibilità di far attraversare il terreno delle proprie truppe, costruire delle fortificazioni e smilitarizzare l'area polacca. Delle richieste molto forti, delle richieste potremmo dire irricevibili. Potremmo anche definire Danzica il vero e proprio nodo gordiano della questione. D'altronde, nell'estate del 1939, l'Europa guarda est, guarda la Polonia. È sicura l'Europa che sarà lì il piano del contendere. È lì che si dovrà decidere il futuro. Addirittura un quotidiano francese, a metà di agosto del 1939, esce con un titolo a otto colonne emblematico. Morire per Danzica? Morire per Danzica? Con l'interrogativo finale. Aveva un senso ripetere gli orrori della Grande Guerra, che si credevano ormai dimenticati e scongiurati dopo la conferenza di Monaco solo per Danzica e il suo entroterra? È questo che si domandavano in molti. Ma non solo. C'erano altri giochi in ballo. C'era un gioco che diventerà molto perverso con l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica che anni prima, e ne abbiamo già parlato quando abbiamo affrontato la figura di Hans Fonset, anni prima l'Unione Sovietica aveva offerto alla Germania la possibilità di studiare i nuovi mezzi corazzati, bypassando i divieti del Trattato di Pace. Nel frattempo qualcosa era cambiato. L'Unione Sovietica era diventata ancora più cupa con le purghe staliniane e in Germania la Repubblica di Weimar era caduta, sotterrata, soffocata, strangolata dal cancro nazista. Ma quello che a tutti sembrava impossibile si sarebbe manifestato il 24 di agosto, con l'annuncio di quello che diventerà noto come il patto Molotov-Ribbentrop. Il patto cioè tra i due ministri degli esteri, quello sovietico e quello nazista, due mondi apparentemente contrapposti, ma in realtà uniti da una visione totalitaria del mondo, e si erano ritrovati e accordati, in realtà non per una semplice questione di pace, ma con un obiettivo preciso, quello di spartirsi la Polonia. Quella Polonia che era risorta dalle ceneri dopo la Grande Guerra e dopo la guerra civile russa e che non piaceva né i tedeschi né i sovietici. La Polonia doveva sparire di nuovo. Il 25 agosto del 1939 è tutto pronto, o quasi tutto pronto, per l'attacco tedesco alla Polonia. Il segnale è l'arrivo al largo di Danzica di una vecchia nave da guerra, la Schleswig-Golstein. È una delle pochissime vecchie navi da battaglia Policalibro, ormai superate da oltre 30 anni, che sono state lasciate alla vecchia Repubblica di Weimar dai Trattati di Pace, che la rinata Chris Marina aveva inglobato. Quella vecchia nave ufficialmente è stata mandata ad Danzica per una visita di cortesia. La classica crociera destrativa, dare paregli onori alla città, portare i cadetti a fare un po' di esercitazioni davanti a un porto vicino. Insomma, le solite cose, una routine. In realtà quella nave è stata mandata lì con uno scopo ben preciso, dovrà fungere da batteria galleggiante per bombardare le fortificazioni che sono a difesa proprio della città e del porto di Danzica. Il segnale d'attacco è previsto per il 26 agosto, il giorno dopo. Ma c'è qualcosa che blocca improvvisamente tutto. Nel pomeriggio del 25 agosto gli inglesi, dopo mesi e mesi e mesi di pazienti trattative, rompono gli indugi e dichiarano al mondo che non hanno nessuna intenzione di lasciar fare a Hitler. Se ci sarà un'invasione, gli inglesi spalleggeranno i francesi e i polacchi, quindi sarà guerra. A quel punto è chiaro che Hitler non può procedere come vorrebbe. Non vuole passare per l'aggressore, anche se in realtà è quello che gli interessa. Ma ha bisogno di quello che viene chiamato il caso Sbelli. Ha bisogno di una motivazione per intervenire. Ha bisogno di far credere all'opinione pubblica che non sia un invasore, ma solo il governante di uno stato vicino, che è stato offeso, attaccato, provocato dalla Polonia. Ha bisogno di un caso Sbelli. E chi glielo offre? Glielo offre un oscuro personaggio. Un personaggio di nome Alfred Helmut Naujoks, 28 anni, Obersturmführer dell'ASS e collaboratore dell'Anima Nera del Regime, di Reinhard Heydrich. Naujoks è giovane, però ha già una certa esperienza e soprattutto è stato messo a capo negli ultimi periodi di operazioni molto complesse. Potremmo chiamarle operazioni sporche. Una di queste è l'allestimento nel centro di Berlino di un bordello di lusso chiamato Salon Kitty, in cui le prostitute, raccolgono le confidenze degli ufficiali e anche dei gerarchi del regime. Uno spionaggio interno, basandosi sulla maggiore debolezza dell'essere umano, i genti sesso. Le confidenze raccolte al Salon Kitty finiscono direttamente in Prinz-Albrecht-Strasse, al comando della Gestapo. Alcune sono confidenze innocue. Altre servono invece a costruire dossier ai danni ufficiali, generali, ammiragli, responsabili amministrativi, tutta gente che potrebbe risultare un pericolo per il dittatore nazista. Poi c'è un'altra operazione, l'operazione chiamata Dukhachevsky, dal nome del fed maresciallo dell'Unione Sovietica, eroe di guerra, forse il più grande generale a disposizione di Stalin, che viene spacciato per traditore. È proprio Naujox, assieme a tutto il suo team, a fornire agli sovietici le prove, ovviamente fabbricate e false, del presunto tradimento del maresciallo Dukhachevsky, che diviene la figura simbolo delle purghe. Non sarà solo lui a cadere, ci saranno altri marescialli dell'Unione Sovietica a essere epurati, condannati e giustiziati. E decine di migliaia di ufficiali. È un'operazione sporca che serve a decapitare la leadership militare di un pericoloso vicino, l'Unione Sovietica. I frutti di quella operazione, l'operazione Dukhachevsky, si vedranno con l'operazione Barbarossa, quando l'Unione Sovietica vedrà il proprio esercito travolto nei primi mesi di guerra, anche perché privo di una chiara leadership militare e affidato a ufficiali di non così provata esperienza. C'è anche un'altra operazione di cui si è occupato Naujox, l'uccisione di un dissidente di nome Rudolf Formis, un tedesco che si è rifugiato in cecoslovacchia e da lì trasmetteva via radio dei programmi antinazisti. Aveva organizzato lui l'uccisione di questa voce libera e la soppressione di quella radio indipendente. Insomma, Naujox era l'uomo delle operazioni delicate, delle operazioni sporche, di tutto ciò che non poteva essere fatto alla luce del sole. Ed è lui che la sera del 25 di agosto del 39, dopo aver avuto l'ordine di sospendere tutte le operazioni contro la Polonia, inizia a elaborare un piano d'azione. È un'azione che viene sottoposto in breve tempo al suo superiore Heydrich e da lui a Himmler e Hitler e ottiene subito l'approvazione. Questo piano d'azione prevede che Naujox finga un attacco di truppe polacche alla stazione radio di Gleivitz, tre chilometri dal confine. Una provocazione. E per farla riuscire davvero bene, questa provocazione, si organizza tutto. Si organizza tutto nei più minimi particolari. Naujox recluta alcuni membri del Sikeraeindist, del servizio di sicurezza, che parlano polacco e li fa rivestire con delle uniformi dell'esercito polacco procurate dall'Avver, il servizio segreto militare. Altri membri del Sikeraeindist vengono invece rivestiti con le uniformi della polizia di frontiera tedesca. Infine, serve la prova decisiva, il morto. E per avere i morti necessari, Naujox ha il permesso di recarsi a Buchenwald, uno dei primi campi di concentramento nazisti. Qui seleziona alcuni prigionieri di etnia polacca, che vengono anche questi rivestiti con le uniformi dell'esercito polacco e accompagnati a Gleivitz. La sera del 31 agosto del 1939, l'operazione Felsflag di Naujox entra in azione. È una vera e propria trappola diabolica. Alle ore 20 scatta la messa in scena. Naujox e un trappello dei suoi con le uniformi polacche fingono l'attacco alla stazione con delle armi caricate a salve, interrompono i programmi radiofonici e iniziano a leggere alla radio un finto proclama in lingua polacca che invita il popolo tedesco a ribellarsi al nazismo e a rovesciare Hitler. Non dura molto la trasmissione del proclama, giusto qualche minuto, al tempo di sentire altri spari, anche questi a salve, sparati dalla polizia della frontiera, che in realtà sono altri agenti dell'SD, e mettere in fuga i cosiddetti occupanti polacchi. L'ultima prova, questa non con pallottole a salve ma con pallottole vere, è la fucilazione dei prigionieri del Lager, lasciati lì sul posto, in quelle uniformi polacche, giusto per scattare le fotografie che servono come prova. Tempo tre ore e il dispaccio della finta aggressione di Gleivitz è sulla scrivania di Hitler, con tanto di fotografie. È quello che Hitler attendeva, è quello che Hitler voleva. ha le prove false, fabbricate, volute, di un attacco polacco, di una provocazione, una provocazione cui la Germania non può rispondere se non con le armi. Ed è quello che avviene. Avviene perché di lì a pochissimo il mistero della propaganda del Reich, retto dal dottor Goebbels, di cui abbiamo già parlato, diffonde un dispaccio. Il dispaccio dice così. La stazione radio di Gleivitz è stata presa d'assalto da un gruppo di insorti polacchi e momentaneamente occupata. Gli intrusi sono stati ricacciati oltre le confie dagli agenti del posto di polizia di frontiera. Nello scontro a fuoco, uno degli insorti è stato ferito mortalmente. Questo dispaccio viene inoltrato non solo alle stazioni radio tedesche, ma anche ai corrispondenti esteri presenti in Germania, in modo tale che la notizia finisca sui quotidiani di tutto il mondo. A questo serve il fast flag di Gleivitz. Nella notte l'esercito tedesco si mette in marcia. Alle 4 e 45 del mattino del primo settembre 1939, quando il sole deve ancora sorgere sul mal baltico, la Schleswig-Holstein riceve l'ordine di aprire il fuoco, brandeggia i cannoni delle torri principali, inquadra la fortezza polastica di Westerplatte e apre il fuoco. Sono le prime cannonate della seconda guerra mondiale. Saranno le prime cannonate di sei anni e un giorno, tragici. Le prime cannonate determinate da un'aggressione fasulla, orchestrata, disegnata a tavolino. Alfred Naujok, tra l'altro, non finirà lì la sua carriera di falsario, ne farà altre. Parteciperà, tra le altre imprese, al Ratto di Velleux, e ne abbiamo già parlato, il rapimento di agenti britannici in territorio olandese. Sarà tra gli sponsor e entusiasti anche di quella che verrà chiamata Operazione Bernard, di cui parleremo in un prossimo video, ossia la fabbricazione di falsi dollari e false sterline da parte del servizio segreto dell'SS per rovinare le economie alleate. La stella di Alfred Naujok però tramonterà. Tramonterà all'inizio del 1942, dopo un diverbio col suo ex protettore capo, Heidrich, che non gradisce l'iperattivismo del suo sottoposto e lo fa trasferire alle Waffen-SS, cioè al reparto combattente, quasi a volerlo spedire al fronte affinché sparisca, magari ucciso dal nemico, o chi lo sa. Nel 1944 Alfred Naujok diserta e si dà la macchia. Ricompare, alla fine della guerra, nelle reti dell'Odessa. È tra gli organizzatori delle vie di fuga verso la Spagna, il Medio Oriente e Sud America di tanti criminali di guerra. Verrà rintracciato in Argentina solo parecchi anni dopo e, dopo un lungo lavoro condotto tanto dall'Ufficio della Giustizia di Hamburgo quanto dalla Commissione Z di Ludisburg, verrà estradato in Germania per rispondere di crimini di guerra. Non vedrà mai l'aula di tribunale. Alfred Naujok morirà a 55 anni di infarto di una cella di detenzione, chiudendo in maniera oscura una vita da uomo delle operazioni sporche, uomo che aveva spiato i segreti pruriginosi di tanti altri tedeschi, l'uomo che aveva rovinato l'elite militare dell'Unione Sovietica, l'uomo che aveva ucciso dissidenti, l'uomo che aveva sognato di rovinare l'economia mondiale, l'uomo che aveva scatenato con un finto attacco da una stazione radio di confine, quella tragedia che oggi è nota come Seconda Guerra Mondiale.